In detta da FIOM, CISL e CGL, per mercoledì 7 ottobre una conferenza stampa davanti ai cancelli della Bottero. Azienda specializzata in macchinari per la lavorazione del vetro è passata agli onori della cronaca in questi mesi per essere stata al centro di gestioni di esumeri sia per lo stabilimento di Tettigaretto che per quello di Trana. Il motivo della mobilitazione è inerente ancora una volta alla consegna di alcune lettere di licenziamento poco chiare, a seguito degli incentivi all'esodo stipulati nei mesi scorsi. Si parla di 5 o forse 7 lavoratori di cui 3 sarebbero diversamente abili e 2 delegati della FIOM. Durante la conferenza davanti allo stabilimento di Via Genova, i sindacati tratteranno anche il tema della mancanza di un piano industriale in grado di risollevare l'azienda e garantire un futuro ai 500 lavoratori rimasti. Proprio su questi temi, infatti, le organizzazioni dei lavoratori stanno avviando iniziative legali a tutela dei licenziati. Nell'incontro di mercoledì saranno coinvolte le istituzioni locali, oltre alle associazioni dei disabili, per dare risalto a livello di opinione pubblica sulla situazione aziendale. I problemi aziendali non si risolvono facendo pulizia etnica, ha commentato il segretario provinciale FIOM, Barbara Tibaldi. Bisogna al contrario valutare un piano industriale solido e lungimirante per lo stabilimento. Ancora una volta ci si accanisce sulle fasce deboli. La mobilità sta terminando e c'è ancora molta oscurità sul futuro di Bottero.